Intensità. Ci hai mai pensato? Oh sì, è bene che cominciamo. Perché la vita non è solo quella cosa troppo lunga, troppo breve. No, la vita è quella cosa troppo vasta, che va riempita, che va vissuta intensamente, densamente. Darle un senso, darle un significato e darle vita. E sì, è urgente, è urgente vivere con intensità, con bellezza, con poesia, amore, arte, o ciò che ti riscalda il cuore. È urgente e si può imparare. Puoi portare intensità alla tua vita, puoi viverla con profondità, puoi capire la differenza e fare il primo passo, oggi. Grazie a tutti.